Tutti uniti per Chiara, tutti in campo per una causa benefica. Il Barletta ha sfruttato l'ultimo fine settimana dell'anno, coinciso con la sosta del campionato di eccellenza, per sostenere la 21enne Chiara Corcella. Un incidente domestico accaduto tre mesi fa a Manresa, in Spagna, ha cambiato la sua vita. Ora necessita di costose cure riabilitative presso la clinica Hochzirl in Austria, a pochi chilometri da Innsbruck. Ringrazio di cuore la società del Barletta Calcio e l'audace Barletta per tutto quello che stanno facendo per Chiara. Grazie allo sport, grazie alla solidarietà di tutti i barlettani, di tutti i partecipanti, riescono a dare un qualcosa e quello che voglio augurare a mia nipote è che presto possa tornare tra noi e a sorridere come ha sempre fatto. La società preseduta da Vincenzo Bellino e Mario Di Miccoli ha preso parte a due gare amichevoli. La prima sabato pomeriggio in trasferta contro il Cerignola vinta dai padroni di casa 4-3. La seconda ieri mattina al Manzi Chiappoli in col audace Barletta terminata 2-2. In entrambi i casi sono stati raccolti fondi da devolvere interamente alla famiglia di Chiara. Ho servato anche un minuto di raccoglimento per ricordare Ruggerino Nappetano, il giovane calciatore barlettano scomparso venerdì scorso a soli 15 anni. Noi da quando è successa questa tragedia ci è piovuto addosso e quindi siamo stati molto vicini a Chiara e alla famiglia e abbiamo sempre organizzato qualcosa per poter dare questo supporto alla famiglia. E San Ruggero, ricordiamo il nostro caro Ruggero che ieri ci ha lasciato a 15 anni e dobbiamo essere sempre uniti in queste situazioni che purtroppo la vita ci porta davanti. Il Barletta Calcio con l'audace, con altre squadre, con l'audace Cerignola ha cercato di stare vicino alla famiglia e siamo felici di poterlo fare. Siamo riuniti qui per dare manforte e sostenere la causa di Chiara con la speranza che appunto possa essere tutto utile per raggiungere lo scopo, quello di riaverla tra di noi.